Ciao a tutti, benziornati sul mio canale Allora, anche oggi sono qua per fare una reaction Sì, sempre vedi reaction qua Perché qualche giorno fa le Little Mix come sapete le seguo ormai da tempo E infatti anche andrò al loro concerto finalmente che vengono in Italia quest'anno che torna non si A maggio a Milano, non vedo l'ora Comunque avendo fatto sempre le reaction sul canale E mi lo si pinche, non su questo Ho deciso di farle anche qua perché comunque io loro le amo troppo Quindi voglio fare dei reaction sui loro video E oggi farò proprio una reazione su una performance che hanno fatto a X Factor UK Appunto qualche giorno fa, che sono andati ospiti per la finale se non sbaglio E la bella cosa è che non ci sono solo loro Ma c'è anche Charlie Puth che io amo, come sapete Cantano appunto la canzone del nuovo album Ups Che oltretutto è la mia preferita dell'album Glory Days Quindi in modo dell'ora di vedere l'esibizione L'ho cercato ovunque, non trovavo il video Finalmente ce l'ho fatta, quindi direi di cominciare E via Mamma che bella testa Tutti in rosa, che figo Oh, dovete capire che io ho una mega crush per Perry È tipo bellissimo Ma che belle Tutte coordinate Mamma la della stia cazzone Ma spero che vengono anche Charlie Tipo ritorno alle origini perché loro sono usciti da lì Comunque i capelli di Leigh Anne fantastici Ciao Adoro Ciao Sì 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 Non ho capito che lo amo io Guarda che bello tutti i 5 Un po' tolto l'edito Nooo È il miglior duetto del mondo Veramente Tutti figlio I don't know what you do Luce baby I love you Charlie contento comunque Di sorella inversa Oh che bello che Sì Sì Eeeee No che figlio volevo essere là però Sì 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 Wow Sì 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 mi immagino semmo un cowboy in questo momento ma che figo è tutto quel balletto coordinato comunque voglio anche i capelli così che figo e pure la parte che figo allora io spero che il concerto sia così cioè deve essere troppo figo poi c'è uguale di fiato cioè io non ce la farei mai boia che bravo top vabbè direi tutto in pieni cioè dopo una cosa del genere tanto c'è sempre il tipo che presenta che non so il lume c'è visto adesso che c'è i dalle bretelle che cos'è boia già cinque anni sono passati non è vero momento consigli finito ok gente il video è finito mi dispiace veramente per il mio aspetto cioè il fatto è che sto lacrimando da stamattina non so che cosa ho in più ho anche un po' di raffreddore e penso lo vedete dalla faccia e da tutto il resto comunque volevo fare questo video soltamente non volevo aspettare oltre quindi spero vi sia piaciuto come al solito lasciate un like e ditemi con sotto se siete fan dell'Electronix e se andrete anche voi al concerto a maggio non si sa mai che magari ci incontriamo da qualche parte e niente noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima reaction ciao